Strada statale 423 Urbinate chiusa questa mattina in corrispondenza del chilometro 18 e 600 nel comune di Colbordolo per un incidente stradale nel quale sono state coinvolte due auto alle 6 e 30 di questa mattina. Per ragioni ancora al vaglio della polizia locale di Pian del Bruscolo, intervenuta sul posto dell'incidente, le due auto che viaggiavano in direzioni opposte sono entrate in collisione frontalmente nel tratto di statale in località Cabalia, una Ford Focus condotta da un cinquantenne di Montecchio ed un utilitario Suzuki alla cui guida si trovava un extracomunitario ma residente a Monbaroccio di 43 anni. Quest'ultimo per le conseguenze riportate nell'urto è stato trasportato dal 118 per accertamenti all'ospedale di Urbino ma è stato dimesso nella stessa mattinata odierna, mentre per l'occupante della Ford non dovrebbero esserci conseguenze fisiche. Per agevolare le operazioni di rilievo della dinamica e per le auto incidentate lungo la carreggiata, l'ANAS, intervenuta con le sue squadre sul posto, ha chiuso per un'ora circa il tratto di statale interessato e deviato il flusso di auto sulla viabilità locale con la collaborazione degli agenti della Polizia Municipale che hanno gestito il flusso del traffico sul posto. Anche una squadra dei vigili del fuoco proveniente da Urbino è intervenuta sul luogo dell'incidente per mettere in sicurezza una delle due autovetture coinvolte nell'incidente.